Buongiorno, buongiorno, buon domenico per la Madonna delle Galline, oggi è la Madonna delle Galline in provincia di Salerno, Pagani, auguri a tutti i paganesi, oggi è la festa della Madonna delle Galline, è bellissima ragazzi, veniteci a trovare a Pagani, bellissima festa ragazzi. Usate tutti i paganesi, tutti quelli che sono all'estero, usate tutto il mondo, questa festa. Ragazzi, è bellissima questa festa, e che devo dire, veniteci a trovare, auguri a tutti i paganesi. Grazie.